Quando arrivate, come è stata accolta la chiamata di Erispray? Da parte mia? Eh beh, felicissimo, felicissimo, mi ha chiamato Lorenzo, mi ha proposto, poi ho sentito Claudio in segno che è il regista e insomma ho deciso di farlo perché è un'avventura troppo divertente da non essere vissuta. E quindi eccomi qua, tette, sedere, pancia, polpacci, avambracci, tutto dilatato e soprattutto un cambio totale di sesso. Com'è il rapporto con il tuo personaggio e con le sue forme? Com'è il rapporto? Con il tuo personaggio e con le sue forme anche? Beh, insomma, devo dire che è la seconda volta che mi calo in questo, come si può dire, in questo esoscheletro e è abbastanza comodo, non è pesante, più che altro è caldo e mi fa, cioè non sono abituato ad avere delle tette e una pancia e non riuscire a vedermi i piedi che è una cosa stranissima. Poi anche insomma la parrucca, sarà uno spettacolo masochista per quanto mi riguarda ma va bene che se l'attore deve soffrire. Andiamo a chiudere con un invito agli spettatori? Assolutamente, noi vi aspettiamo dal 2 di febbraio fino al 18 qui al Teatro Nuovo in Piazza San Babi da Milano e poi dal 20 febbraio al 4 marzo al Teatro Brancaccio di Roma. Venite, non potete perdervi queste tette.